Ciao, siamo qui a Monfalcone al Festival di Geografie con Giulia, che è una social media manager che quindi appunto si occupa della parte social di questo festival. E appunto noi vorremmo sapere, come mai questa parte ha così tanta rilevanza all'interno di questo festival? Beh, perché i social sono un po' un nuovo modo per fare pubblicità, quindi ovviamente tutte le comunicazioni passano oltre che tramite televisioni, giornali e radio, anche tramite social, moltissime persone usano i social e quindi è un buonissimo canale di comunicazione. E appunto quindi grazie ai social si riesce ad aumentare la visibilità? Assolutamente, le persone riescono a condividere più contenuti e oltretutto ogni persona può ricondividerli con altre persone, quindi anche con amici, parenti, ci si può taggare, comunque si ha un pubblico ampio che magari giornali e televisioni possono si raggiungere. Però anche chi partecipa come spettatore diventa attivo, ha un ruolo attivo nel campo diciamo. E secondo lei qual è il ruolo degli ambasciatori appunto all'interno di questo festival? Gli ambasciatori hanno un ruolo importantissimo e sono molto utili intanto perché portano una ventata d'aria fresca al festival. E' importante perché gli avvicina al mondo del lavoro e gli avvicina soprattutto al mondo dei libri con un pochettino uno dei significati di geografie. Va bene, grazie mille.